Bella a tutti i Fortnitears, benvenuti su Leontube, eccoci in questo video per andare a vedere come completare la missione infliggi danni agli avversari usando tecnica dello spirito del fieno, fucili di precisione o DMR io in questo caso ho il DMR, se volete farla alla svelta il DMR lo trovate qui, in questo punto qui lo vende Ramingo, se volete fare alla svelta, oppure lo potete trovare tranquillamente in giro e se lo comprate da Ramingo vi servirà anche per completare la missione, questa qua raccoglio oggetti epice superiore entro 20 secondi dall'atterraggio del bus della battaglia e ok, attimo, allora quindi ora sia con DMR che con la tecnica dello spirito dobbiamo andare a fare a infliggere danni agli avversari, non dobbiamo fare 20 punti ma dobbiamo praticamente colpirli 20 volte io già li ho colpiti 4 volte con il DMR, intanto qua arriva la tempesta e poi l'ho colpito 4 volte con il DMR qui vado anche ad attivare la bacheca delle taglie se riesco, che è qua sotto nello specifico ora vediamo se riesco a trovare un avversario eccolo allora perfetto, l'abbiamo anche eliminato vedete l'abbiamo colpito ben 8 volte, aveva anche la corona che adesso andiamo non la vado a raccogliere perché mi interessa, vedete c'è anche altra gente che viene a raccogliere la corona ok, mi ero un po' incastrato, ok quindi avete capito come completarla in modo abbastanza facile anche perché tra le missioni di oggi vedete che c'è questa qua infligge i danni ai lama maledetti quindi andando a distruggere e eliminare i lama e poi troverete la tecnica dello spirito del fieno e potrete fare questa missione in modo abbastanza semplice quindi se il video vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti